Domani era in programma lo sciopero dei 279 lavoratori dell'ASP di Agrigento, è stato rinviato per quale motivo? La Commissione di Garanzia ci ha invitato a rinviarlo per un concomitante sciopero di livello nazionale. Non è male voglio dire perché ci consente ancora una volta in questa settimana di poter arrivare a un contatto con il responsabile dell'ASP1 visto il fallimento della riunione in prefettura. Noi siamo qui pronti, non vogliamo fare lo sciopero, non servirebbe, voglio dire perché danneggia sia i lavoratori che lo fanno sia gli utenti che si servono della sanità. Sanità va cercando che si cara, siamo qui perché questi lavoratori sono dei lavoratori che lavorano da anni, sono in front line, sono persone che sono agli sportelli, che erogano servizi essenziali, quindi non è possibile che non facciano parte di una pianta organica. Peraltro stiamo attivando colloquio a livello regionale con l'assessore russo, abbiamo già avuto un contatto, cercheremo di attivare tutte le componenti che possano portare alla risoluzione del problema. Siamo convinti che il responsabile dell'ASP1 ha tutto l'interesse perché il conflitto non si nasprisca, anche perché noi venerdì pomeriggio alle 16 in ospedale faremo un'assemblea con i lavoratori per spiegare quello che si è verificato e le strategie che dobbiamo attuare. Ci crediamo moltissimo, ci crediamo moltissimo perché in questo momento il lavoro precario è diventato una angheria. Il lavoro precario consente di avere lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, questo è semplicemente inammissibile. Compremetto che l'assessore russo sta attivando tutte le procedure necessarie per l'esanamento dei conti dopo l'allegria, l'allegra brigata degli ultimi anni. Mi pare che abbia ragione, però per dei servizi considerati essenziali non si può assolutamente risparmiare. Considerando che il lavoratore è disoccupato, il lavoratore che non ha più i soldi per mantenere la famiglia diventa un pericolo socialmente rilevante. Per cui noi abbiamo anche un problema di ordine pubblico e di necessità che tutti i lavoratori riescano a portare lo stipendio a fine mese. Il dato essenziale è che ci troviamo in questa stazione balorda senza interlocutori validi, perché un responsabile di ASP, un dirigente di azienda, notoriamente, non può fare a meno del rapporto con le parti sociali. Noi siamo pronti anche perché, come ho detto ripetute volte, possiamo aiutare il percorso, possiamo trovare le soluzioni possibili, possiamo attivare processi di contenimento della protesta. Questo si fa chiaramente dialogando, chiaramente avendo una partecipazione alla trattativa, le parti devono incontrarsi e siccome il direttore dell'ASP non è proprietario dell'azienda, è semplicemente una persona che la rappresenta e siccome noi rappresentiamo interessi forti, gli interessi degli ultimi, di chi non ha speranza, vuole avere, vuole vivere, siamo qui e vogliamo evitare questo scontro. Se non è possibile, arriveremo allo scontro, nelle sedi competenti e ovviamente nelle forme democratiche previste. Grazie.